ok perfetto questo che appena detto si traduce in fase di salita di risalita risalita ok che casomai è un segnale che non è che identifichiamo qua dentro viene dal robot perché il robot essendo che va a fasi lui ci dice e sono in fase di risalita potete mettere anche un piccolo timer ok per esempio mezzo secondo una cosa del genere giusto che si alzi un po anzi